Buongiorno a tutti ragazzi di SemiTops e ci sentono qui su una nuovissima challenge che è tipo prova a non ridere ma adesso ce la spiegherà più approfonditamente il nostro amico Marco lui, colui allora, qui è una challenge, prova a non ridere dove loro, noi dovrebbero avere dell'acqua poi bocca e non deve ridere il nostro altro altrimenti si butta sopra lo bevremo dell'acqua e se rido gli sputa tossio perciò non dobbiamo ridere chi sputa di più e viene pigliato via si può partire Marco, prego sapete che la fuleone non è stato suppelito del tutto ma fa una parte la ripo pippo cosa fa una sputa sulle scale? saliva pietro sporti sofrumani in the ripo non si lascia come si chiama l'ape sporcazzona? a pecorina ma dai non ridere ogni battuta dai facciamo l'ultima perché altrimenti pietro annega cosa fa un ginocchio in discesa? rotula e così anche pietro ha l'ultima molla è finito il turno di no no ok l'ultima pietro ormai ha riso quindi pippo non so no pippo non riesce beve pippo beve pietro e si preparano cosa fa un chicco di caffè sotto la doccia? si lavazza dopo sputare non sputare perché i pesci hanno le spine? perché nel mare c'è la corrente e quindi ma che senso ha? perché si devono infatti cede all'ultimo perché un ginocchio rotula perché chiuda le scale? non è così lo so però mi hai capito perché il ginocchio rotula perché stai e poi le scale perché è sceso cosa fa un ginocchio cade in discesa rotulato ma basta sappiamo quella cover perfetto allora è finito il turno di pippo e pietro e bene adesso tocca a marco e lollo allora ora è il turno di marco e lollo allora tenerezza sai che cosa si dicono due gatti quando fanno pace? mici come prima allora tra canguri domani faccio un salto da te poi nel deserto cosa dice una duna a un'altra duna speriamo speriamo che arrivi qualche duro a un salto da te allora qual'è il colmo per una rana offesa? qual'è il colmo per una rana offesa? ingoiare il rosbo sapete come si chiama il cinese più brutto al mondo? sono uscito una cacata allora vai lollo ingozzati di acqua vedi chi era l'ultima? eh? ma no no ancora ammazza allora qual'è il contrario di melodia? se lo tenga allora allora nel pollaio una gallina rivolgendosi preoccupata a un'altra quella gallina laggiù ha molta febbre poverina scotta così tanto che fa le uova sode sì allora ok allora sei la mia sedia la caduta del cielo complicato che sei caduta di fai 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 Nagatomo Che astuto Maresciallo corrente Hanno rubato la nostra macchina Hai visto chi è stato? No, ma ho preso la targa Speriamo che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo Settimana prossima con un nuovo video Se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace Se non siete ancora iscritti iscrivetevi Noi ci vediamo domenica prossima Ci vediamo un giorno